Ragazzi, finalmente abbiamo assistito ad un'altra partita così nel genere, perché abbiamo detto tante di quelle mie volte che l'Inter è la favorita per vincere lo scudetto, ok? Perché io non mi faccio mentire, perché loro hanno vinto e quindi ben mi sta, perché la Salernitana ha fatto una cosa in più nel secondo tempo invece, ecco che ha vinto l'Inter. Ok? Quindi questo è il fatto di oggi, perché ha vinto per 4 a 0 e l'hanno poi confermato Comar. Comunque hanno vinto grazie alla tecnologia, perché si meritano questo, ok? E grazie per non avermi smascherato, perché se non finisce male questo video, ok? Quindi questo è, perché l'Inter di me si è aiutata con i favori, ma il contro avrà questo modo dire che questi se non vincere, ma anche rubando le partite. Ecco perché sono loro i primi a rubare e non siamo noi, ok? Perché loro sono i primi a rubare le partite. Quando loro vincevano i primi a rubare, ecco che significa, fuori un gioco di Arnautovic e il gol annullato, ok? E i secondi a rubare, ecco che sono i primi a rubare le partite. Sì, è vero, però io sono fortunato di essere diventino e non do rispetto a voi, perché siete così, ok? Perché l'arrivo deve essere rispettata, perché io ti voglio bene, caro interista, ok? Quindi questo è, mi raccomando, e fai tutto a me e grazie a Simonin Zanghi che l'ha vinta questa partita, ok? Però dovete fare una cosa, iscrivetevi al canale, cari miei, e attivate tutte le notifiche per non perdere i prossimi contenuti e da domani si giocherà Eronei Ventus, ok? E lasciate anche un like e i commenti. Grazie, fino alla fine.